Al via la nuova stagione del teatro sociale Aldo Giuffredi Battipaglia che debutterà ufficialmente domenica 27 ottobre alle ore 18.30 con Due donne in fuga. Protagoniste della prima, le attrici Marisa Laurito e Fioretta Mari. Lo spettacolo, adattamento di un'opera francese e diretto da Nicasio Anselmo, racconta di due donne che si incontrano mentre fuggono dalla loro vita. E' l'inizio di un'avventura che vede le due donne viaggiare in autostop, interpretando una commedia dalle battute felici che non sono mai fini a se stesse ma servono a costruire con ironia i caratteri diversissimi delle protagoniste. Ma sono lucciole! Ma veramente non lo vuole proprio il mio accendino!